eccoci qua eccoci qua buongiorno benvenuti a questa è la segna stampa di oggi quattordici settembre un sacco di amici che arrivano sia su Instagram Facebook su tutti quanti siti sono un po' conciato ieri ho finito tardi allora quali sono i temi della giornata? Beh intanto il tema per cui eh aprono i giornali oggi sono un po' più variegati rispetto al solito ve lo dico subito ehm diciamo diciamo così eh il Corriere della Sera il Repubblica decide di aprire ma non è l'unico giornale sulla questione delle bollette elettriche cosa che vi ho raccontato nelle ultime settimane e che eh oggi sembrano eh comparire e arrivare sui giornali come se fossero un fulmine a ciel sereno vi ricorderete nella segna stampa di qualche settimana di una settimana fa che vi citai i le ricerche di Tabarelli eh che diceva esattamente le cose di cui oggi si stupiscono tutti quanti i giornali energia cinquecento euro in più a famiglia stangata sulle ehm bollette elettriche dal primo di ottobre quaranta per cento di incremento per le bollette eh per l'energia elettrica e trentuno per cento per il gas stiamo parlando di un botto tra l'altro questo elemento non solo rende più eh leggere le vostre tasche ecco diciamo così ma soprattutto ehm dal punto di vista economico avrà un impatto come si dice inflattivo perché se aumenta l'energia elettrica aumenta il gas aumentano e aumenta la benzina aumenta ehm il costo dei trasporti aumenta il costo dei prodotti aumenta cioè vi è un elemento di aumento dei prezzi generalizzato che non necessariamente si trasforma in un aumento dei vostri stipendi o delle vostri introiti diciamo grazie a Ilaria Branca che è subito arrivata favolosa come sempre e generosa come sempre qua su eh YouTube insomma questo è il punto fondamentale cioè quando aumentano i prezzi di energia beh ragazzi insomma non direi uno scenario degli anni settanta però il rischio che questa roba qui ci porti a un aumento dell'inflazione quindi a una riduzione del nostro potere di acquisto è enorme e ovviamente i giornali se ne accorgono con molto ritardo ma forse il giornale che oggi coglie meglio ehm e questa eh diciamo eh questo elemento è il ehm libero eh diretto da eh Sallusti è perché Fausto Cariotti giustamente titola il conto dei verdi perché dovete sapere che quello che è successo è che non solo è aumentata l'energia elettrica per un motivo banalmente di materie prime perché c'è una ripresa e tutti cercano le materie prime le materie prime costano apro la parentesi e chiudo la parentesi che cosa sarebbe successo se il mondo sarebbe fosse stato tutto elettrificato con le auto eh cosa sarebbe stato successo che cosa sarebbe successo che sarebbe aumentato anche il ehm il prezzo evidentemente dei trasporti delle auto elettriche perché anche quelle non sarebbero immuni così come lo è di quelle endotermiche ma il punto è un altro il punto è che una componente fondamentale dell'aumento delle bollette deriva dal dai cosiddetti ehm grazie a Massimo Torre ciao Nick che ti offre un caffè e una bibita grazie mille qual è il punto fondamentale che le società che producono e che utilizzano gas e eh petrolio siccome sono considerate delle merde che inquinano che producono CO2 che non è un inquinante come ben sapete ma siccome eh l'Europa ha posto delle questioni molto più restrittive sulle emissioni di CO2 chi è complice delle emissioni di CO2 deve purificarsi la coscienza comprando i cosiddetti diritti di inquinamento questi diritti di inquinamento si scambiano in borsa e il loro prezzo è sempre eh lievitato quindi che cosa vi sto cercando di dire che scrive oggi il domani scrive oggi il sole scrive oggi Repubblica il basta leggere all'interno dei pezzi ma soltanto eh libero titola secondo me correttamente che l'aumento del prezzo che avremo in bolletta beh deriva in gran parte dal fatto che noi vogliamo Europa ehm eh inquinare di più e quindi il prezzo del nostro ambientalismo esiste ed è in bolletta punto e basta il governo già a luglio eh oggi scrivono i giornali si era adoperato per ridurre il il prezzo della eh bolletta eh perché era già luglio aumentato e aveva stanziato uno virgola sei miliardi allora quanto potrà lo Stato eh mettere soldi e quattrini perché noi ehm si ehm abbia una bolletta diciamo eh sostenibile ecco mettiamola così quanto tempo dovremo dovremo quanti soldi dovremo spiegare quando non avremo tutte le risorse che abbiamo oggi e la possibilità ehm di avere eh come possiamo dire eh qua che cosa dice Nicola Giorgio Sorrentino Greta è sulla livrea della mia Lotus PDR con cui corro la Lotus Speed con buona pace delle pur inquinanti auto a batteria ha un sound favoloso Nicola sei mitico eh tu e la tua Lotus lo dico senza nessuna ironia eh secondo eh tema di giornata che anche questo è un pochino eh derivante da quelli di ieri è il fatto che come tutti quanti ehm sapete il il Green Pass verrà esteso verrà esteso prima gli statali poi tutti quanti i lavoratori insomma e si pensa che questo Green Pass sia la soluzione di tutti quanti i problemi non c'è praticamente nessun giornale se non la verità che si ponga qualche dubbio su sul Green Pass anzi quelli che sono pro Green ehm contro il Green Pass o che pongono i dubbi sul Green Pass vengono additati come Novax io la trovo una cosa straordinaria nel frattempo in Inghilterra eh si è tutti liberi in Danimarca si è tutti liberi in Germania si è un utilizzo del Green Pass molto inferiore di quello che si ha eh in Italia in Francia si ha come in Italia in Spagna è molto eh meno utilizzato di quanto si esista da noi però noi questa idea del lascia passare chi non c'ha il lascia passare in Italia d'altronde noi siamo ricordatevelo sempre pur sempre il paese eh del quanto quanto vuoi due fiorini ve lo ricordate i due fiorini di easy ecco questo quindi un paese che ha inventato i due fiorini e quella gag ehm favolosa può continuare col Green Pass quanto eh si vuole però eh sul Green Pass intanto qua Gianluca Vavanello il consumo scende per nuove tecnologie led classe A eccetera calo energifari crisi ergo gettito scende quindi serve aumentare imponibile questa è la tesi di Gianluca però il punto oltre al all'elettricità sulla questione diciamo del Green Pass del lascia passare e che il passato ormai i giornali vi stanno raccontando questa storia che ormai è diffusa su tutti quanti i quotidiani quindi mettiamoci l'anima in pace e cioè è la seguente eh Salvini è finito nell'angolo come dice Repubblica Giorgetti apre la Green Pass per tutti i lavoratori e eh Giorgetti e il governatore Fedriga Zaia e Fontana pieno riconoscimento dell'utilità del Green Pass cioè sostanzialmente quello che stanno cercando di dire i giornali è che Salvini è finito cioè i giornali non solo ed è avvenuto con Berlusconi me la ricordo perfettamente in si parva l'ICET oppure in realtà la cosa è molto più simile altro che si parva l'ICET perché non sono parva ehm e avvenne anche con fini avvenne anche con Alfano cioè quando un leader del centrodestra ha un po' troppo potere al suo interno c'è qualcuno che ha eh posizioni anche legittime un po' diverse beh diventa subito il grande idolo della stampa io questo lo consiglio ai leghisti per esempio al governatore Fontana che viene intruppato in questa eh diciamo in questa casella dell'antisalviniano e si ricordasse il governatore Fontana come è stato trattato dalla stessa stampa quando ci fu il virus in Lombardia e quando eh si sostenne che lui era incapace di guidare quella regione e quando gli gli parlarono dei camici oggi però Fontana viene bene perché essendo a favore del Green Pass è contro Salvini che viene messo nell'angolo è un po' il diciamo la storia eh del diciamo eh del centrodestra e degli atteggiamenti intanto fatemi salutare eh Giovanni Terrano che addirittura fa una donazione di 49 euro e 99 50 euro al mio sito quindi Giovanni grazie mille eh della tua donazione più che generosa quindi ehm Bay eh apparente sospensione ehm politica che deriva dal draghismo questo scrive su Repubblica Bay beh in realtà invece sta creando dei sommovimenti all'interno della leghe dove ci sono due leghe una del nord e una all'interno del nord una diciamo ragionevole e l'altra meno è proprio questo è il processo che l'ho già visto mille volte divide e timpera e soprattutto quello che è il divisore come si dice quello che i Giorgetti e i Fontana e i Fedriga e e gli Zaia dopo che hanno diviso e cioè dopo che hanno assolto il loro ruolo di distruggere il leader che non piace alla stampa che piace beh dopo che l'hanno distrutta beh allora a quel punto vengono distrutti essi stessi va bene il presidente dell'industria di Varese è oggi l'ennesimo industriale intervistato dal foglio che dice eh la seguente cosa eh chi rema contro Draghi non fa gli interessi del paese straordinario sembrano veramente gli industriali del fascismo quelli che dicevano chi fa non fa eh chi non è fascista non fa gli industriali del paese io non penso che i capi industriali di Varese sia così sciocco io penso semplicemente che gli si pone eh male la domanda io non penso che oggi eh ci sia gente che non faccia gli interessi del paese qua c'è qualcuno che magari può alzare la mano e dire scusatemi ma siamo davvero così sicuri che il Green Pass sia una cosa che a noi ci piace tanto perché ricordatevi ricordatevi la mancazza di ossigeno cioè di libertà noi eh la eh avvertiamo soltanto quando inizia appunto a mancare mh poi lo diamo eh per acquisito il fatto che noi siamo liberi quando inizierà a mancare un po' di libertà i vari industriali di Varese i vari eh filosofi insomma si renderanno conto i politici si renderanno i cittadini si renderanno conto che questa idea del lascia passare per far tutto beh insomma qualche piccolo problemino lo potrebbe porre per ora insomma si tratta pragmaticamente soltanto di un gran pasticcio ma oggi siamo ragazzi all'informazione straordinaria perché oggi io leggo eh cose mirabolanti sulla riuscita del ministro Bianchi il ministro Bianchi con il ministro dei trasporti con il ministro eh della sanità senza tanti di PCM ci hanno fatto riprendere la scuola scrive il messaggero bravi complimenti ma bravi dai che ma ragazzi ma stiamo scherzando voglio capire ma voi siete stati su un autobus dei ragazzini per andare a scuola io li ho visti ci sono stato ma avete visto che cosa succede nei ragazzini che prima della scuola sono ovviamente e naturalmente assembrati e poi dopo nella scuola e in realtà c'hanno le finestre aperte perché questa è la soluzione vanno a scuola come andavano prima con le mascherine cioè non riesco a capire cioè c'è una specie di gigantesco trionfalismo perché ieri sono arrivati a scuola quattro milioni di ragazzini io sono contento per me la scuola deve riprendere dove esserci anche prima siamo il paese che ha fatto meno scuola di tutti ma oggi c'è una specie di celebrazione del ministro bianchi perché ha riportato i bambini a scuola è come se si celebrasse non so che posso dire il vostro facchino di amazon perché vi porta un pacco a casa sono arrivati i pacchi a casa e li pagate ah e l'edicolante mi ha dato il giornale è pagato e ah e il commercialista mi ha fatto la dichiarazione di redditi sono cose che succede cioè quando si inizia la scuola parte la scuola non ho capito qual è il grandissimo trionfalismo è perché c'è una grande epidemia c'è una grande emergenza stiamo tutti morati no 35 morti ieri che sono l'elemento su 1700 statistico purtroppo di morti per diciamo invece c'è questa specie di grandissima il problema è un altro vediamo cosa succede nelle prossime settimane purtroppo nelle regole assurde per cui se si ammala uno tu devi bloccare la classe per sette giorni o per dunque c'è rasa le scuole riaprono e con i ragazzi diligentemente scaglionati ma porca puttana ma perché l'anno scorso voglio dire non erano diligentemente scaglionati gli assicuro a a cerasi e a tutti quanti che anche l'anno scorso e anche l'anno precedente quei pochi giorni che sono andati in scuola erano diligentemente scaglionati è una cosa straordinaria nel frattempo però devo dire la verità che i sondaggi oggi sempre che i sondaggi siano quelli giusti ma bisogna prenderli in considerazione per tutti danno veramente un disastro nicola ti voglio far sapere che cosa che mi dice va bene beh insomma cosa è successo sui sondaggi ci sono tre sondaggi che danno lì un centrodestra a pezzi ve lo dico subito perché intanto il sondaggio a milano secondo repubblica vedrebbe eletto quasi al primo turno beppe sala la centrodestra non esce a vincere a milano a torino dove c'è un ottimo candidato del centrodestra un imprenditore dell'acqua e insomma uno che mi stupisco che voglia fare il sindaco ma comunque questo da milano il candidato a torino è secondo il sondaggio arriverebbe primo al primo turno ma perderebbe al secondo perché ovviamente a primo turno se non hai la maggioranza e poi quelli che hanno perso al primo turno si equalizzano rischia di perdere il secondo turno e anche questo è una sconfitta maresca il magistrato de sinistra candidato dalla destra a napoli e è nel caos più totale perché non gli hanno accettato tre liste tra cui quella della lega e maresca e tra l'altro magistrato dice sentenza politica io lo trovo fantastico sentenza politica e intanto si parte con la terza dose sono tutti quanti silenzio sulla terza dose anche qua se qualcuno facesse toc toc non ci avevate detto che questi erano vicini che insomma una volta vaccinati eravamo a posto e già adesso facciamo capito come no fischiettiamo ma come fischiettiamo cazzo ci siamo vaccinati pensando che col vaccino eravamo a posto e adesso ci spiegate terza dose quarta dose quinta dose a me va benissimo a me ne faccio anche 102 di dosi io mi faccio crescere anche i capelli biondi pur di non andare in un ospedale ma ragazzi ma le minchiate che avete raccontato almeno che qualcuno alzasse il dito e dicesse io non ci avevo capito nulla noi scienziati non avevamo capito nulla è la variante delta e perché mi spiegate oggi voi stessi mi dite che le varianti fanno parte della vita normale di un vaccino e quindi la nascita di una variante obbliga a fare un'altra dose e la prossima variante ne potrebbe obbligare un'altra cioè in realtà parliamoci chiaro sui vaccini questi ci hanno raccontato una favola che non si è purtroppo realizzata l'unica cosa che si è realizzata che il vaccino grazie a queste tecnologie in effetti riduce di moltissimo la possibilità di morire punto nel frattempo rispunta della riforma del catasto che vuol dire maggiori tasse per gli italiani che hanno la casa cioè il 70 per cento degli italiani secondo il sole 24 ore si parla quindi di cambiare qui parametri entro i quali viene messa l'aliquota perché vi spiego bene che succede su questa cosa perché se no è difficile capire tu c'è una casa che vale 100 e c'è un'imposta che vale 1 quindi l'1 su 100 paghi 1 se quella casa improvvisamente invece di valere 100 vale 1000 tu non paghi più 1 di tasse anche se l'aliquota è 1 ma paghi 10 cioè aumentando il valore di quella casa al catasto e mantenendo uguale l'aliquota quindi lo stato dice io non ho aumentato le tasse in realtà ma aumentando il valore di quella casa tu paghi 10 volte di più le tasse allora questa roba qui ovviamente è una riforma sul rettizia delle tasse e comunque un aumento della fiscalità che può essere venduta come razionalizzazione che in effetti in alcuni casi sul catasto c'è ma attenzione perché questa è la via semplice per aumentare le imposte sugli immobili forse più delicata rispetto a quella di monti ma altrettanto pericolosa guerriglia in rai fuertes che è appena arrivato l'uomo di nastasi grande uomo potente della pubblica amministrazione che fa i ministri cioè è lui che fa franceschini più che franceschini fare lui l'uomo di nastasi che è diventato direttore generale della rai amministratore legato della rai fuertes vuole fare tutto subito dice il foglio e quelli gli fanno sciopero e la cosa ridicola come devo dire sostiene oggi il foglio è che nel comunicato dei sindacati dice eh siamo eh sottostaffati c'è poca gente per poter fare tutte le cose che dobbiamo fare quindicimila dipendenti eh su Eitan rapito eh si eh interroga il Corriere della Sera due pagine eh tre pagine di del Corriere della Sera io vi segnalo soltanto una chicca secondo me favolosa ehm piano organizzato per la fuga sostengono gli investigatori eh vabbè ma allora ragazzi ditelo cioè ditelo che non volete dire nulla ma secondo voi quello va a prendere il bambino gli dice che ci sono i giochi lo porta in Svizzera c'è un Cessna pagato novemila euro c'è il problema dei tamponi lo portano in Israele lo accettano in Israele lo portano a coso e questo si sveglia e gli investigatori dicono c'è un piano organizzato a cazzo certo che questi investigatori abbiamo Sherlock Holmes e Watson no un piano organizzato cioè questo doveva rimanere in Italia non aveva la possibilità di espatrio tutti temevano che che il nonno se lo portasse via e noi oggi quando scopriamo che c'era un aereo privato pagato novemila euro secondo voi è andato lì col banco matta a pagarlo spiegano che ehm c'è un piano organizzato qua che cosa dice Luigi Cisalpino ce lo sa anche un talebbano a colazione pranzo e cena si usa solo olio rasciatano ma tu sei un genio totale è un po' che non parlo del mio olio in effetti bisogna oliare soprattutto ora che inizia l'autunno il nostro piatto con la tenuta rasciatano grandissima comunque queste frasi che si inventano loro sono geniali Luigi Cisalpino l'ultima notizia che vi voglio ehm segnalare non la trovate sui giornali italiani ed è la notizia più clamorosa della giornata qual è lo stato più importante più ricco del mondo ve lo dico io con tre miliardi di abitanti si chiama Facebook e con un pil che è superiore a quello di molti paesi del mondo Facebook e mh e la cosa straordinaria è che il Wall Street Journal oggi in prima pagina fa un titolo eh che vi leggo secret light except cioè sostanzialmente c'erano delle eccezioni per delle singe delle delle elite segrete eh sulle regole di Facebook mi spiego meglio Facebook che se mettete una donna nuta vi banna se siete un fatto un discorso che dice il Green Pass che ne pensi ti demonetizza cioè fa tutte queste robe qua secondo il Wall Street Journal aveva una lista segreta di vipponi giornalisti io probabilmente non c'ero forse orse c'ero non lo so spero di sì ehm eh giornalisti eh cacciatori eh figoni eh attoroni eh politiconi beh questa lista segreta eh sostanzialmente cosa faceva dice Wall Street Journal Facebook per questa lista segreta evitava tutte le regole e cancellava le regole che normalmente si usano per i normali Cristi e questa è una cosa pazzesca perché eh qualcuno cita per esempio il caso di Neymar il giocatore che aveva messo la foto di una fidanzata nuda su Facebook voi sapete che non potete mettere nulla di nudo su Facebook ehm qua dice Conte dei fra vedi vero Fedez usa i termini che che usa e non è bannato questo Neymar pubblica una foto di una ragazza eh nuda che poi lo eh eh accusa eh di violenza e beh insomma lo può fare e poi ovviamente la foto viene tolta perché non passa eh per i filtri consueti dell'algoritmo di Facebook perché avrebbe fatto parte di questa lista di VIP che su Facebook potevano dire e pensare quello che gli pareva mentre i Cristi normali non possono pensare e dire quello che vogliono Facebook secondo Wall Street Journal avrebbe questa lista segreta della spectre il lagladio di Facebook se così fosse sarebbe straordinaria io trovo anche giusto che Facebook faccia un po' come gli pare e così si rompe questa già grande gigantesca bolla di ipocrisia tutti uguali Facebook tutti uguali nella minchia lì alcuni possono dire parolacce possono fare certe cose e altri se si azzardano a fare qualche cosa contro il covid o contro eh il politicamente corretto gli fanno un mazzo così e beh insomma questa roba secondo me di Facebook ripeto il più importante più popoloso stato del mondo beh insomma vale la pena approfondirla vedremo domani i giornali come ne parleranno io vi ehm do appuntamento con la zuppa di domani sul sito nicolaporro punto it per tutte le le notizie grazie tantissimi che ieri si sono sciroppati quarta repubblica Nicola posso fare causa al catastro per uno per un'ora eh errore dice ieri e ieri era una noia con Conte abbiamo le scatole piegge di bugie Conte ieri sera faccia a faccia si è dato da fare vabbè il nonno di Eitan pare fosse membro dei servizi dello scimbet capisce a me dice Arzuffi cioè sostanzialmente servizi segreti eh hai dimenticato novecento da fare a quel eh genio di Giuseppe ma anche a e tu invece di devo dire Giuseppe hai dimenticato una H mi sembra ciao a tutti i stipendi vabbè insomma un sacco di commenti anche oggi sulla zuppa io vi do appuntamento come sempre domani ciao grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori